Vi dico già che nell'episodio di oggi della Pixel ma ragazzi c'è un po' di follia perché a parte un Zig Zagoon che vuole venire a colpire il mio bellissimo Charmilon come diamine si permette E in più ragazzi vuole fare del danno, allora ti diamo fuori il nostro Teilo così lo possiamo livellare per bene Dicevo che davanti abbiamo un bellissimo boss di Gengar ragazzi guardate che figata che è Comunque benvenuti e bentornati a questo nuovo episodio, Zig Zagoon l'abbiamo fatto fuori intanto qua il Teilo continua a livellarsi molto molto bene Abbiamo un Gengar ma non solo, abbiamo un altro bellissimo boss a livello totem che è Lunala come notate ragazzi però ovviamente loro sono dei livelli un sacco alti E abbiamo anche un Ivisaura al 28, allora direi proviamo a catturarlo così al volo con delle Ultra Ball proprio a livello di test generale Mi piacerebbe però poterlo magari sfidare perché sapete che io in realtà vorrei collezionare anche tutti quanti i vari starter della Pixelmon Comunque ragazzi benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio della vostra serie Pokémon preferita Come sempre noto un supporto da parte vostra gigantesco all'interno di questa serie io sono veramente tanto 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 felice Quindi anche in questo momento ragazzi mentre c'è questa battaglia lascio un bel pollice nel su un bel mi piace per dimostrarmi quanto ci tenete a questa serie Pokémon Io vi vedo veramente un sacco felici ragazzi vi dico solo che torneranno i due video al giorno e con il ritorno dei due video al giorno torneranno anche più episodi della Pixelmon Quindi vi do questo piccolo annuncio per rendervi ancora più feliciato che poi inizia anche la scuola in questo periodo Quindi magari stai anche un po' giù di morale per questo motivo Però cerchiamo di catturare questo Ivisaura davanti ai nostri occhi con questa Ultra Ball e vorrei andare a sfidare quel Gengar Boss Perché vorrei livellare il mio Teilo perché vorrei sbloccare un Pokémon di tipo volo all'interno della mia squadra Solo che questo Ivisaura ragazzi è bello tosto ha fatto fuori sia il mio Quilava sia il mio Charmander Quindi facciamo un bel wing attack direttamente con il nostro Teilo che li ha tolto tantissimo ragazzi E poi proviamo a catturarlo ancora con questa Ultra Ball li ha tolto veramente tanto Teilo ragazzi Quindi secondo me ora potrebbe entrare No non ci credo, no non ci credo, ci ha fatto fuori anche il Teilo Ma come si è permesso ragazzi me la battaglia piuttosto e l'abbiamo fatta all'interno di queste per ora Allora Graveler mi raccomando tu non soffri gli attacchi di Ivisaura quindi ti tengo a te fuori Ma guardate qua ragazzi questo Ivisaura quanto è ostico Così è inizio episodio per favore Ivisaura vuoi entrare, facci sto favore Dannazione che abbiamo un episodio da portare avanti Niente lui non vuole entrare ragazzi lanciamo l'ultima Ultra Ball E poi ce ne andiamo perché se no stiamo qua tutto il tempo e perdiamo un sacco di tempo Vediamo, secondo me ora entra, no è uscito Addio Ivisaura Comunque allora ragazzi noi abbiamo da sfidare innanzitutto quel Gengar che è qua fuori Però devo andare a curare i Pokémon Quindi per favore se puoi non despaunare fai un favore all'umanità intera In più mi avete detto anche di raccogliere il PC da portarmi indietro Questa cosa qui ragazzi avete ragione quindi adesso lo prendiamo e ce lo portiamo direttamente via Perché nel caso catturassimo altri Pokémon almeno abbiamo un PC con noi Ma il Gengar è ancora qua Non so a che livello posso spawnare Sapete ragazzi essendo boss, essendo che il mio Pokémon è più alto al 28 Lui spawna al 38 Allora però ci ha seccato in questo modo direttamente così il Charmander Io quasi quasi partirei coltello Li farei... no ragazzi Mi sa che qua facciamo una brutta fine perché questo qui è molto potente Aiuto però l'abbiamo paralizzato ci ha fatto fuori tutti quanti Allora abbiamo Takedown che potrebbe... Ragazzi non l'ho neanche sfiorato Allora siamo messi così male Va bene me ne vado me ne vado me ne vado Curo ancora i Pokémon A quanto pare la situazione ragazzi dei miei Pokémon è un pochino disastrata all'inizio Ma come ogni serie Pixamon è normale Comunque nell'episodio di oggi quindi io voglio andare a esplorare l'altra zona ragazzi Perché tanti voi mi hanno detto che vorreste che io iniziassi a esplorare un po' di più la zona della Pixamon Per capire appunto come è strutturata la mappa Perché vi sta piacendo veramente tanto Quindi io quasi quasi in questo episodio direi esploro un'altra isola Così voi magari potete iniziare a decidere quale delle tre isole che abbiamo esplorato Dovrei andare a sfidare per la prima volta Ma non solo ragazzi perché a quanto pare abbiamo visto che per ogni isola ci sono anche i vari dungeon dei Pokémon E quindi Pokémon leggendari Quindi a voi questa cosa qua piace un sacco E vorreste che io vada appunto a esplorare tutte quante le varie zone In più vorrei controllare in compagnia vostra le statistiche del Teilo Perché a quanto pare siamo ancora un po' all'inizio dell'esperienza Quindi ci servirebbe trovare un bel po' di Pokémon sul nostro tragitto Per poter livellare il nostro Teilo Questo qui è al 41 Quindi ragazzi lasciamolo stare Lasciamolo perdere perché è meglio Qua abbiamo un centro Pokémon Là in fondo ne abbiamo un altro Ma in realtà io vedo già che c'è un bellissimo ponte Che ci potrebbe portare in un nuovo bioma Quindi in realtà eravamo molto vicini a questo nuovo bioma Che potremmo già incontrare oggi E allora qua davanti abbiamo un Linun Che è il 24 Potrebbe fare molto bene al nostro Teilo Quindi sfidiamolo già ora Linun per favore Ok E andiamo subito di Wing Attack Che ci ha tolto tantissimo di vita E potremmo già fare il cambio Pokémon Così tanto l'esperienza la prende lo stesso Il nostro Teilo Lo mettiamo in campo Graveler Dai che comunque è a livello 28 E secondo me possiamo già abbattere magari questo Linun Che ha fatto una mossa per addormentarsi Allora andiamo di Takedown Che ne ha tolto più o meno un terzo di vita Molto bene ragazzi Graveler comunque un ottimo tank Diciamo che abbiamo fatto molto bene a prenderlo quel giorno lì Perché almeno ci servirà per tankare le battaglie Poi attaccare grazie mille E il Teilo ha fatto 526 di esperienza Molto bene Ma là in fondo ho visto Uh c'è un Brivery C'è un Brivery ragazzi Al 56 Sapete che ho l'ignoranza ragazzi Quasi quasi una Ultra Ball Giusto per non sapere leggere e scrivere La lancio ma non vedo Dove è finita Ultra Ball L'abbiamo preso Abbiamo preso Bri Non ci credo ragazzi Eh allora Questa cosa qui è stata un po' immeritevole Perché noi volevamo livellare il Teilo Però abbiamo già un Pokémon al 56 Che è Brivery Poi abbiamo un Ondum che potrebbe servirci a posto del Bailiff Che è tanto inutile Abbiamo già un Bulbasaur Che però È un livello molto molto basso rispetto agli altri E il Brivery ragazzi potrebbe essere un ottimo tank anche per le battaglie C'è un Ultra Ball però Andiamo a prenderla Perché è esploso tutto quanto un Poké Center in questo modo? Ma che diamine Ma che era una trappola? Ok Ehm Non so cosa dire ragazzi Allora facciamo così Prendiamo questo loot qua di Ultra Ball Era una specie di trappola Quindi questo Poké Center Che si è attivato una volta che siamo passati noi Va bene ragazzi Ci sono anche delle trappole A quanto pare magari Potrebbe essere già un primo messaggio del Team Rocket Che ancora non abbiamo mai incontrato all'interno di questa serie Allora già il Bioma ragazzi è una figata epica E là in fondo c'è una specie di centro di stazione tipo elettrica Sembra un qualcosa del genere Potrebbe essere veramente una figata poter esplorare Magari lì dentro c'è uno spawner tipo quei di Zekrom Perché potrebbe centrar Allora non lo so ragazzi Vediamo però Qua abbiamo per esempio il Dottore della Oakland E qua dietro abbiamo anche un bellissimo Crab No Com'è che è? Crabroller Ok Non so perché non riuscivo a leggere solo me Allora Leggiamo però Se il Dottor Oakland potrebbe dirci qualcosa in più Benvenuto nell'isola alberata Lo youtuber che difende Quest'isola sarà Steph? Questa è anche una delle isole Che nasconde più dungeon per Pokémon leggendari Quindi è anche una di quelle più ostiche da sconfiggere Uuuuuh Non so perché ragazzi Ma tanti di voi secondo me vorrebbero che io sfidassi quest'isola qua Non so qualcosa me lo dice qua Vediamo voi cosa dicete qua sotto nei commenti degli episodi di oggi della Pixelmon Però secondo me col Brivery E ora che possiamo volare finalmente un po' in giro per la Pixelmon Potremmo esplorare anche magari meglio Là in fondo abbiamo una bellissima Ultra Ball Come loot Vediamo se Se c'è qualcosa all'interno di Ma com'è? L'aria Ma ci hanno trollato ragazzi Ma allora Allora Ti è full Là in fondo abbiamo Però vediamo un attimino se troviamo qualcosa di interessante Magari non un Wearpool Che potrebbe essere molto molto inutile Abbiamo un'altra Ultra Ball Ti prego non mi prendere in giro anche tu Allora abbiamo Uuuuh Iron Head Un'ottima mossa ragazzi Stiamo già trovando anche le prime mosse Allora Esploriamo per bene tutta quanta l'isola Cerchiamo appunto di vedere Ci sono un sacco di loot ragazzi Ma proprio tanti Qua abbiamo un'altra Ultra Ball L'aria Vabbè Prendiamoci l'aria Cosa dobbiamo fare eh Però vediamo se c'è qualcosa di interessante Che potrebbe esserci qua Un'altra Ultra Ball Molto molto bene ragazzi Ci sembra che ci stanno lanciando L'Ultra Ball addosso E Jetpack Ok E qua Oh potrebbe essere il loot della Master Ball È il primo loot della Master Ball Che troviamo nella Pixelmon ragazzi Wow Allora Wow potrebbe essere leggendario Perché potremmo trovare già la Master Ball Nel primo Non nel primo episodio Però nel primo episodio della Pixelmon Però vediamo No Però potrebbe essere una cosa Molto molto interessante Perché è una piuma curativa Vediamo cosa succede Allora È un item Che può aumentare Gli HP base Di un Pokémon singolo Questo potrebbe essere utile Per esempio Per il mio Charmin Per il mio Charmeleon Ok Interessante ragazzi Molto molto bene Vedete Comunque volando così Si trovano robe veramente molto grandi Molto molto belle E soprattutto Fermi un attimo Questo è il dungeon di Giratina Palchia E di Alga Ragazzi Calma 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 Abbiamo anche una cassa Con delle mosse La Red Chain Che servirà sicuramente Per poter spawnare Quindi Uno di quei Pokémon leggendari Ma questo è un dungeon Livello Groudon Ragazzi Tanta roba Abbiamo anche De Dragon Soul Il Wateryum Zed Abbiamo L'Orb Che ci potrà servire Per spawnare Quindi Giratina Tanta roba Abbiamo trovato anche Questo dungeon Dei Pokémon leggendari Oh Ragazzi L'isola di Steffo Sembra essere Molto promettente Non so perché Ma voi voterete Quest'isola qua Non so cosa me lo dirà C'è un altro No ragazzi c'è un altro Ragazzi C'è un altro Di questi dungeon Sempre di giratina così Assolutamente sì Con all'interno L'Admantorb Che invece questo Serve per Dialga Ragazzi Non so perché Ma secondo me Su quest'isola Oltre che averci regalato Anche un sacco di Pokéball Ci sono i dungeon Dei Pokémon di tipo Drago Ecco perché c'era in fondo Appunto La stazione Credo che quindi Quella lì Abbia al suo interno Lo spawner Di Zekrom E di Kyurem Allora Abbiamo un'altra Red Chain Quindi tanta tantissima roba Lì in fondo abbiamo un villaggio Cosa? C'è C'è un C'è l'item di Zapdos Ragazzi Quest'isola qua è tosta È una figata colossale Avevo uno Skiddle 34 Davanti Beh Potrebbe essere un ottimo Pokémon Da poter catturare Visto il livello ragazzi Però magari sprechiamo Qualche Ultra Ball Senza farci Nessun tipo di battaglia Proviamo Uh abbiamo anche un Aron Al 17 Allora Secondo me in giro Potremmo trovare degli Agron Quindi a questo punto Facciamo un Aron Un Loudred minuscolo Dal 34 Vediamo se abbiamo Qualcos'altro interessante In giro Magari qualche altro Loot Che potrebbe servirci Facciamo così Voliamo in questa zona Qua dell'isola E cerchiamo appunto di capire Se in giro ci sono anche Magari dei bellissimi Pokémon Da poter catturare Da poter sfidare Perché comunque La nostra idea è cercare di livellare Al massimo Il nostro Charmander Anche perché vorrei un Charizard Non dico il prima possibile Però quasi ragazzi Quindi quella lì sarebbe l'idea E in più Mi piacerebbe quindi capire Dove si trova la palestra Perché lì in fondo Abbiamo visto un villaggio Però in realtà Non abbiamo visto la palestra Qua c'è un Pokestop Che è Sospeso in aria Grazie a una Redstone Redstone Block Loudred al 33 Carino Però non è il momento Cerchiamo di capire Però questo Centro Pokémon Ma è sospeso su un albero È sponato su un albero Vabbè Allora a sto punto Saliamo anche noi Con questi bellissimi tronchi di legno Buongiorno 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 Allora vediamo cosa abbiamo Uh altre Pokémon ragazzi Sono un po' inutili Ci servirebbe una specie Di scambiatore di Pokémon Per magari ottenere qualcosa Un po' più Uh un'altra Un'altra di quelle piume Che abbiamo trovato All'interno della Master Ball Di prima però diversa Questa qua è la Muscle Feeder Quindi È un item Che serve per aumentare L'attacco base Di un Pokémon singolo Ok questa cosa qua È molto interessante Poi qua cosa abbiamo Abbiamo delle Candy Per aumentare l'Exp Dei Pokémon Uh Irislash Un Energy Ball Un Float Blu Ok Che serve per svegliare I Pokémon che stanno dormendo Io quasi quasi lascio giù Questa Spooky Plate Un Paralizzante E un'altra Di quelle piume Che servono per curare Per aumentare I pipì di Pokémon E lasciamo giù Questo Zap Plate Ok Molto interessante ragazzi Anche questo centro Pokémon Utile Qua cosa abbiamo Abbiamo delle Pokémon Anche tipo acqua Alla in fondo c'è un Lapras Beh potremmo anche stare in giro E controllare che Pokémon Ci sono magari All'interno dell'oceano Qua c'è un Cramoranta 47 Ok Allora Ragazzi Io spero che questo episodio qua Della Pixamon A voi sia piaciuto Vi invito a lasciare Un mi piace Un commento A iscrivervi al mio canale Se ancora vi faccio Scegliere uno Del video qua davanti E decidere Quale isola partire Per sfidare Appunto I primi allenatori Di Pokémon Noi Ci vediamo Un prossimo video Da Marco è tutto Iscrivetevi E attivate la campagna E queste quante notifiche Ciao ciao